ciao a tutti dreamlake moon vi da il benvenuto a un nuovo episodio di vita nel ranch nel video scorso c'è stato un episodio speciale in cui abbiamo visto la costruzione della nuova casa di jace si finalmente abbiamo una nuova casa bella grande bella accogliente per una famiglia vi invito a guardare il video se ancora non l'avete fatto per appunto vedere tutti i dettagli cosa c'è appollo si lo so piove è brutto raccontano barzelletta o ha venuto qua a dire a dirci che ci ama ok stavo per dire sì ok va bene grazie anche dedè pulisci dedè potresti anche strofinare il collo ad apollo ma soprattutto volevo che jace chiamasse cioè jace volevo io no lui vuole chiamare ivy per appunto mostrarle i lavori completati finalmente dopo questi lunghi mesi di attesa in cui lei chiaramente è venuta spesa a controllare come procedevano i lavori a fare alcune scelte per quanto riguarda i mobili poi c'è una zona che qua ho a metà abbattuto e probabilmente è facile che poi la allargerò ancora adesso vediamo insomma vediamo come evolvono le cose per ora il necessario c'è anche per il piccolo willow infatti ci sono i giocattoli per i lattanti c'è una nursery c'è tutto necessario perfetto e sì ci sono anche delle porte che vanno che danno direttamente sul retro in modo che siano tutti più comodi soprattutto jace a raggiungere le piante e tutto il resto perché è grande il lotto perfetto vai a coccolare un po apollo e io direi che si può chiamare ivy invita nel lotto attuale per farle vedere insomma che i lavori sono finalmente terminati e insomma vedere quanto lei impiegherà adesso a trasferirsi perché l'unica cosa che manca adesso è il trasferimento di ivy dove stai andando non riporre nulla vieni qui e eccola è già arrivata per cui invita a entrare è sempre più affascinante jace vero vero tesoro ma vede vabbè wow proprio terminata sì sì sono appena andati via le operai appena adesso hanno portato dentro le ultime cose ti verrebbe di venire a fare un giro è meravigliosa ancora meglio dell'ultima volta che l'ho vista beh c'erano i lavori vedo adesso che questo muro è un po alto magari si lo abbasserò perché in effetti è un po altino vabbè vieni qui vieni pure ivy il piano autosufficienza ha raggiunto il maggior numero di voti va bene questo non l'avevo previsto ok allora tesoro quanto impiegherai ancora condividi consigli unitario vabbè sì dove stai andando tesoro allora quanto impiegherai ancora a mettere a posto gli scatoloni ma poco a dire il vero in settimana dovrei riuscire a trasferirmi ma è perfetto è ottimo mi raccomando io ti aspetto abbraccio aperte il piccolo willo perché sì a dire il vero potrebbe anche trasferirsi subito ivy però io volevo attendere cioè volevo trasferirli dalla gestione dei quartieri però se vado nella gestione dei quartieri questo che il giorno del rimborso temo che non venga non venga conteggiato cioè si si azzera dato che ho speso un sacco di soldi se riesco a riavere indietro qualcosa è giusto meglio per cui io direi che allora ivy può andare a casa beh allora io torno a casa eh vado a continuare a mettere via i mobili magari prendo un hamburger davanti alla tv che è l'unica cosa che devo ancora mettere a posto va bene allora usiamo nella nostra nuova toilette sì ci sono le finestre aperte lo so però mi piacevano allora ho messo queste voi sapete per caso eventualmente le cambio se queste aperte influiscono sulla temperatura che c'è in casa vabbè a parte questo allora sì vescica appollo è felice vorrei capire se riusciamo a fare una competizione oppure oppure nell'attesa di domani potremmo farlo esercitare ehm così apri il profilo perché sì abbiamo temperamento ancora a livello 6 dobbiamo lavorare sul salto sulla resistenza un po' su tutto in pratica anche la resistenza ancora a livello 6 vabbè ci esercitiamo nel salto allora direi ehm beh magari devo salirli su ma noi abbiamo un po' di amicizia con queste eh sì allora lavoretti chiedi aiuto per il giartinaggio non salire così vai a mangiarti tu almeno tu giusto la pecora mangia mangia le erbacce so che ce n'è una che mangia le erbacce e l'altra che mangia invece i gli insetti ah sì dedè cercherà di aiutare jace mangiando eventuali erbacce che dovessero spuntare va bene vai mangia ce n'è qua spruzza l'insetticida e poi saliamo su apollo lo facciamo esercitare un po' nel salto io direi che ci vediamo a questo punto direttamente domani è un nuovo giorno qui a ranch jace si è svegliato di ottimo umore direi eh sì si sta occupando del giardino perché comunque dedè non riesce a mangiare tutto diciamo che eh ti tosiamo per la lana tu non non la pianta di patate tu sefi ehm socializza accarezza chiedi chi è il got accarezza che magari riusciamo ad aumentare un po' ehm la il rapporto con lei non mi veniva il termine e vediamo se riusciamo a fare amicizie insomma lascia stare un attimo ehm le piante e anche apollo sì tanto apollo adesso viene qua ehm apollo tesoro potresti non spaventare dedè ecco appunto non hanno un buon rapporto eh il cavallo e e la capra e la pecora direi proprio di no non ce l'hanno affatto va bene apollo datti una calmata per favore perché sei così allora io direi che spaziolliamo il manto puliamo gli zoccoli ehm abbracciamo e poi incoraggiamo l'addestramento siamo amici adesso ehm manco per il cavolo e non parlo di quelli che non abbiamo piantato perché non ci sono vabbè e e poi dobbiamo terminare di addestrare apollo perché se riesce a raggiungere il livello sette sette no otto di salto che ci siamo quasi ieri sera abbiamo fatto veramente le ore piccole per riuscire ad arrivare a buon punto eh potremmo vedere di fare un'altra competizione se c'è la possibilità però adesso vediamo perché mi sa che bisogna arrivare al livello 9 per ehm fare i prossimi ma soprattutto ci manca un po' di temperamento e soprattutto anche di 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 eh resistenza per cui magari andiamo a fare una una cavalcata qualcosa del genere insomma però prima terminiamo il salto non mi piace troppo che ci sia le mosche su questo vici pubblico però vabbè l'ho messo più che altro perché faremo delle giornate insomma dedicate agli animali ehm non avremo solo Apollo mi raccomando perché quando arriverà la nostra Ivy ehm magari perché no dato che ci sarà una mano più in più al ranch che più che ranch adesso è diventata una villa però dato che ci sarà una mano in più al ranch perché no ehm potremmo prendere un altro cavallo per quello che questo non rimarrà sempre così magari lo estenderò di nuovo come era prima insomma magari prenderemo regaleremo anzi una bella giumenta ad Ivy per cui addestramento intenso e poi andiamo a farci una cavalcata per aumentare un po' la resistenza vai facci vedere quanto sei diventato bravo Apollo eh perfetto proprio dai vai vai che ce la fai mmm bravo un altro ehm salve tizia del controllo dei piani d'azione del quartiere si sta guardando i collezionatori d'acqua ci facciamo una bella foto durante un salto oh con lo sfondo della villa nuova si poi ci sono un po' di dettagli che devo ancora sistemare ma vabbè ci sarà tempo come per esempio questo questo va sicuramente sistemato ma vabbè abbiamo tempo faremo tutto prima o poi ho raggiunto il livello 8 di salto perfetto smettiamo smettiamo smetti andiamo a farci una bella cavalcata per cui vai a fare una cavalcata intensa e ci guidiamo un po' anche il panorama di questa bellissima giornata dopo la lunga pioggia che mannaggia ma ha ruvinato il video della ristrutturazione ecco o meglio della ricostruzione del ranch che c'è Apollo dai dai che andiamo mannaggia quella pioggia proprio quel giorno doveva arrivare ma vabbè bel lavoro sembra che l'unità familiare sia conforme a tutti i piani d'azione del quartiere vigenti oh grazie al tuo impegno gli importi delle prossime bollette saranno ridotti sì anche perché adesso abbiamo tipo 3000 simoleon di bollette vabbè che con il con il nettare che abbiamo o meglio che avevamo perché l'abbiamo venduto praticamente tutto quasi tutto però però ahi vi sarà presto ci sono pure gli alieni ahi vi sarà presto qua e magari perché no potrebbe essere lei a occuparsi della produzione di nettare dai a ex pittrice a vinificatrice perché no e abbiamo raggiunto il livello 7 di resistenza grandissimo perfetto io direi che ecco smettila torniamo a casa fermati un attimo magari sul cavallo ah siamo già a casa ok non me ne ero accorta oh vede ci viene incontro patato patato parla di quale nuvole è il più morbida che è il più morbido eh 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 che è il morbidone di papà e poi vabbè lui no lui sta bene e quindi a questo punto vediamo se riusciamo a partecipare a una competizione magistrale possiamo già fare magistrali però ehm ehm dovremo avere appunto nove di agilità come supponevo qua non possiamo fare ancora nulla perché ci serve la resistenza che adesso abbiamo eh per cui potremmo provare invece invece qua possiamo già provare il salto ostacoli magistrali però dai procediamo eh per gradi praticamente adesso dobbiamo avere livello eh sì appunto di tutto per poter accedere al magistrale vabbè dai proviamo Endurance sequestre abbiamo tutte le a livello esperto abbiamo tutte le abilità richieste per cui proviamo ad andare dai vai a fare questa competizione andate tutti e due e vediamo cosa succede oh c'è Ivy qua tesoro sei pronta il trasloco? sei venuto a dirci questo? perché noi stiamo ancora aspettando che ci tornino indietro i fondi che abbiamo che abbiamo ricevuto per la la giornata appunto del com'è che si dice? per vabbè insomma per la festività ecco mettiamola così sì poi anche qua dovrò fare i soffitti insomma un po' di lavoretti ancora da fare ci sono però sinceramente ci ha messo un'infinità di tempo quello cioè il video che avete visto voi di ristrutturazione della casa sono quattro ore passa di registrazione e quindi diciamo che ero stufa volevo cominciare a giocare anche a a ritornare appunto nella partita vera e propria e abbiamo vinto la medaglia d'oro all'endurance sequestre perfetto sì giusto dobbiamo anche iniziare a ad appendere in un bel posto i le medaglie che abbiamo vinto sì lo so che hai fame Apollo come sta invece? tutto eccellente per cui magari potrebbe no potrebbe fare niente Ivy vabbè lasciamo andare lasciamo andare a casa facciamo finta di niente io direi che apri mangiamo qualcosa ne attendiamo con fiducia che arrivi il prima possibile il rimborso ecco non mi veniva il rimborso per cui mangia i ravioli vegetali e non appena arriva il rimborso Ivy si trasferirà nel frattempo noi andremo avanti con con le esercitazioni di Apollo perché adesso lo scopo ed anche il motivo per cui Ivy verrà qui a vivere insieme a Jace è che Jace vuole concentrarsi sul far diventare Apollo un campione e e quindi ecco essendo quello il suo scopo magari con una mano in più potrà concentrarsi di più su su Apollo mi piace un sacco questa cucina comunque mi piace come è mai venuta dato che ci siamo vediamo se riusciamo a cambiare anche questo ma sul serio cos'è cos'è successo no era troppo basso quello ma perché vabbè a volte è un po' scemo questo gioco lo mettiamo qua al muretto sì dai più che sufficiente dai ottimo va bene così avevi finito di mangiare perfetto allora ripulisci tutto e andiamo a esercitarci esercitarci un altro po' permettendo oh finalmente abbiamo raggiunto il livello di amicizia anche con Sefi per cui possiamo chiederle di ehm aiuto per il giardinaggio per l'appunto così ci mangerà uh no perché stai dormendo no 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 svegli Apollo così mangerà anche gli insetti dai svegliati che abbiamo da fare Apollo dobbiamo aumentare il tuo temperamento il tuo temperamento questa volta sì giusto ho detto bene sì esatto il temperamento per cui ehm spazzo nel manto eeeh sussurrà gratta il collo pulisci gli zoccoli insomma tante belle cose per aumentare il temperamento quindi socializzare eeeh vendi il cavallo no non lo vendiamo Apollo braccia eeeh ah abilità dei cavalli temperamento parla della vita sociale complimentati per il temperamento anche oh così si sente bello fiero di se stesso Apollo sembra intimidito ma anche orgoglioso di un simile complimento perfetto eeeh mhm discuti ancora delle vite segrete degli animali ma sì dai poi raccontano barzelletta vabbè troppe azioni in coda va bene dopo ore in interrotte di socializzazione forse riusciamo ad arrivare al prossimo livello di temperamento abbraccia ancora dai che ce la facciamo Apollo lo so che sei stanco possiamo chiederti di dormire oh livello 7 di temperamento meno male ora i sim possono chiedere del rapporto con i sim a Apollo migliorando lo sviluppo dell'abilità di carisma del sim per un certo periodo inoltre ancora meno probabile che Apollo disarcioni quando qualcuno in sella oh meno male allora perfetto ti lasciamo dormire Apollo noi andiamo nel nostro nuovo bagno super lussuoso ci mettiamo a letto e direi che io spero davvero che ci arrivi questo rimborso perché davvero è il momento di far trasferire Ivy e buongiorno Jace si è svegliato piuttosto presto rispetto al suo solito è agitato insomma sta attendendo che gli arrivino indietro i soldi non vede l'ora che Ivy possa trasferirsi insomma frigge frigge di impazienza il nostro ragazzo e anch'io con lui però mi chiedevo se Urca qua c'è bisogno assolutamente di lavorare un po' sull'orto ragazzi qua dovete dovete aiutarmi eh non bisogna innaffiare no allora vabbè raccogli tutto estirpa le erbacce quando ha finito di fare giardinaggio vediamo se Ivy può trasferirsi anche normalmente perché non so avendo un lattante in casa poi se se può se la cosa crea problemi mi auguro che il gioco sia abbastanza intelligente da non crearne però non è detto insomma ah stai mangiando perfetto allora uh livello sei di giardinaggio Jace sta diventando un vero agricoltore ora può estirpare le erbacce in una zona più ampia oh perfetto ehm dicevo spero che il gioco sia abbastanza intelligente da far trasferire Ivy con Willow e vendere anche i suoi mobili in modo che insomma ci porta un po' di soldi ecco ecco tutto non che abbiamo problemi economici però insomma se vogliamo allargare la famiglia meglio avere qualche soldo in più e dedè c'è qua ci sono altre erbacce se ti va ascolta ascolta pollo pollo cos'ha non avrà niente è che solo è il cocco di papà quindi ogni tre per due viene lì per farsi accarezzare grattare gratta il collo eh sì lo so abbiamo un buon clima qui sembra strano ma è così allora vediamo di invitare Ivy vediamo se invita nell'otto attuale se sì solo Ivy può non può invitare Willow se il gioco è abbastanza intelligente da fare tutto ciò che che vorrei per farla trasferire oppure no vediamo ciao Ivy sei pronta sì sì sono pronta tu hai ricevuto i soldi dalla banca non ancora vieni qua non ancora però se vuoi puoi trasferirti anche adesso lei praticamente ha la valigia in mano oh Apollo e capre e la capra e la pecora proprio non vanno d'accordo assolutamente uh è flortante anche solo vedendola uh si potrebbe fare fichi fichi nel cespuglio per cui romantico ne proponi le nozze addirittura no affè intimità fisica bacia e poi perché no potremmo insomma darci la pazza gioia nel cespuglio che c'è qua fai fichi fichi con Ivy no figlio ancora no cioè sarebbe una bella cosa perché non si può sarebbe una bella cosa ma è un po' presto ecco fai fichi fichi con Ivy puoi no Ivy ha detto che nel cespuglio non vuole qual è il problema è troppo vicino a al limite dell'otto allora lo mettiamo qua questo lo sposterei qua dato che sono in modalità appunto compra costruisci vediamo se adesso funziona uh che lag fichi fichi non figlio fichi fichi no non funziona benissimo allora niente chiediamole subito se vuole trasferirsi esprimi dedizione oh yes e amichevole chiedi di unirti all'unità familiare perché non puoi più fare interazioni con lei ok allora invita a entrare aggiunge il gruppo vai qui uh il lag è terribile provo a salvare un attimo e adesso voglio capire perché non riesce più a fare nulla con Ivy eh amichevole chiedi di unirti all'unità familiare ce la fai Jace allora sei pronta a trasferirti? eh praticamente ho ho le scatole fuori di casa eh ok va bene allora portiamo loro due ah perfetto vendi tutti gli arredi nel lotto anche eh se facciamo così vabbè sì vendiamo ci ha portato un bel po' di soldi in effetti e vediamo se ci porta qui anche Willow a questo punto uuuu tavolozza raffinata sì perché Ivy appunto è porta qui Willow dov'è? all'asilo no non è all'asilo è qua fuori perché Ivy sì ha il massimo nell'abilità di quindi cosa è successo alla sua aspirazione? scegliere una nuova aspirazione prima di tutto Ivy ha appunto livello 10 di pittura ehm natura penso che fosse ehm no adesso vediamo dov'è la nuova aspirazione per la creazione di nettare cibo ovviamente dovevo pensarci creatrice esperta di nettari perfetto perché non c'è nulla qua? mamma mia uuuu Willow che succede? stai crescendo? allora prendi in braccio Willow è tornato dall'asilo oh adesso si vede perfetto allora Jace lasci stare un attimo Ivy e ehm vediamo se possiamo partecipare a una nuova competizione adesso che il nostro Apollo ha raggiunto livello 7 di temperamento ehm adesso possiamo fare il magistrale qua però ci serve ancora il livello 9 barili idem portamento esperto sì possiamo fare il livello esperto di temperamento perfetto poi per il resto ci servirà praticamente il livello 9 in tutto vabbè proviamo andiamo dato che il nostro Apollo è anche molto fiducioso e intanto ci occupiamo di Ivy tesoro vai a fare questa competizione oh perfetto uuuu 80.000 simoleon ok credo che ci hanno appena restituito i soldi perfetto benissimo allora ciao tesoro io vado a fare questa competizione va bene allora io intanto mi sistemo mi sistemo me stessa e Willow Willow tra l'altro è cambia gli abiti che abiti ha? di certo non quelli quotidiani allora mettiamo gli abiti quotidiani e entriamo in casa per cui metti Willow giù qui e purtroppo appunto ha perso tutte le abilità tra virgolette che aveva perché le petre miliari non sono abilità e quindi il gioco non le salva quando trasferisci quando salvi l'unità familiare nella galleria dato che sono vengono da un'altra partita da Ivy e Willow praticamente perché meno praticamente lui ha perso tutte le cose che sapeva fare allora ha fame però eh allora potremmo fare così nutri non con il biberon allora cura dei neonati volevo anche scegliere la preferenza di nutrizione ah c'è già e utilizza pannolini no usa e getta ora si indossa pannolini in tessuto ok quello quello l'ha memorizzato il resto no vabbè ancora dei neonati a latta pietra miliare raggiungi sbloccata si doveva raggiungerla un po' prima le pietre miliari eh cioè le aveva già io avevo giocato appositamente non ho pensato che appunto il gioco le cancellasse mannaggia vabbè e dopo lo mettiamo un po' qua a giocare metti Willow giù qui e la nostra Ivy potrebbe iniziare uh prima di tutto felicità bassa no accudisci pulisci dedè uh medaglia d'argento bene non ottimo ma bene e accudisci pulisci sefi così Willow se ne sta sul tappetino magari gioca un po' e il nostro jace può occuparsi no il giardino a posto diamo un po' di di prodotti agricoli ad Ivy così dopo può cominciare anche a a fare il nettare beh intanto le basta e le avanza l'uva e le mele non lo so allora questo lo vendiamo questo anche ci teniamo solo con gli oro e per il resto fragole no fragole ad Ivy non le vendiamo vediamo oh perfetto allora io direi che nel prossimo episodio a questo punto potremo appunto regalare una una bella giumenta ad Ivy come 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 regalo di benvenuto diciamo alla fattoria o anche come regalo di nozze no dai io volevo fare una bella foto ma porca miseria ma ti pareva allora noi possiamo andare in giro a questo punto no possiamo esercitarci sui barili con Apollo sui barili attorno ai barili monta su che si è agitato cosa c'è Apollo e la nostra Ivy ce la facciamo a fare una foto bella mentre pulisci Sefi oh sì questa volta sì che carine eh sì siete carine insieme Willow può dicevo giocare gioca con i giocattoli guarda i giocattoli e poi prova ad andare a nanna mentre Ivy può andare a hai sbloccato una pietra migliare tesoro sì prendi sbloccata beh magari basta solo fare le le interazioni che faceva prima per farlele riguadagnare tutte cosa stai facendo? no non guardare monta su Apollo come dicevo la scelta caduta su di te verranno presto riattacca e aspetta non vuoi click no non vogliamo Ivy cosa sta andando a fare? fermati fatti gli affari tuoi a non mettere via i giocattoli li ho messi lì apposta vieni a produrre nettare di uva dai monta su Apollo fai dei versetti sbloccata sì mi sa che bisogna rifare tutte le interazioni che poteva fare anche prima però possiamo sbloccarle tutte penso eh poi non lo so allora esercitiamoci con i barigli ed estramento intenso e vediamo Ivy come se la cava con il suo primo primissimo nettare sì questa stanza è un po' spoglia però pian piano chi è? salve pian piano riusciremo ad arredare anche questa come dicevo lavori minori ancora da fare ma pian piano arriviamo a fare tutto sì sì Willow sta sbloccando di nuovo tutte le pietre migliari che aveva sbloccato per cui non dovrebbero esserci problemi però che seccatura 5 giorni nel passaggio di età mamma mia potrei anche pensare di farlo crescere prima eh però vediamo vediamo se riusciamo a fargli risbloccare tutte le pietre migliari e poi eventualmente di di fare il compleanno qua come sta andando? benissimo vedo oh adesso Dedè ha una passione assurda per Jace lo ama praticamente e Sefi boh è un po' così è un po' solitaria ultimamente non so come mai il giardino è a posto insomma non ci serve nemmeno come mai sei triste non ci serve nemmeno chiamare qualcuno per prendersi cura del ranch penso eh adesso vediamo prova ad andare a dormire no 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 non piangere non piangere dormi e basta ah il tuo primo nettare ivy perfetto allora vediamo potremo anche vedere come sta il nostro nettare quello già fatto anzi possiamo aprire moderatamente invecchiato mettiamo qua le bottiglie di Jace uh questa è dannata apri anche questa non ha ancora invecchiato e invece le bottiglie di Ivy le mettiamo qua vediamo qua quanto quante ne abbiamo dannata no non ancora moderatamente moderatamente e dannata una penso anche di aver capito perché il nettare anche se l'avevo messo in cantina comunque non non andava cioè non diventava dannata no sta dormendo lascialo stare non diventava dannata prima si va a lucidare va bene chiacchiere con becca perché sono conoscenti oh che bello è già delle amicizie poi sì potremmo anche fare una una bella festa qui a ranch per per festeggiare appunto la nuova villa perché è una villa come dicevo prima di Ivy e di Jace per cui invitare un po' di amici vediamo di chiacchierare con becca chiacchiera però non ha il telefono ok diventa ispirata per essere creativa questo fa parte no fa parte della cucina della creatività ebbene allora io direi che siamo messi bene quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto la nostra Ivy finalmente è qua con noi abbiamo la nostra bella casa la vita va a meraviglia cosa stai facendo? stai prendendo dell'acqua? la vita va a meraviglia direi che potresti andare a fare un altro nettare perché no? dobbiamo pulire la macchina del nettare e dopodiché produrre nettare di uva a manetta perché tanto le piante cioè le piante l'uva ce l'abbiamo i frutti ce li abbiamo e quindi sì io direi che possiamo terminare qua questo episodio nel prossimo magari vediamo se riusciamo a organizzare una festa nel ranch vediamo di appunto regalare una giumenta ad Ivy potrebbero perché no la giumenta il nostro Apollo però volevo prima che Apollo diventasse un campione in modo che passasse il tratto del campione alla sua progenie quindi sì ci fermiamo qua per questo episodio e spero che vi sia piaciuto che la casa nuova vi piaccia vi ricordo appunto di andare nel video precedente nella playlist per vedere il video di Speed Build così vedete anche per bene tutti i dettagli della nuova casa mettete un bel like se questo video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi se ancora non vi siete iscritti attivate la campanella in descrizione trovate le playlist tra cui appunto quella di questa serie e di tutte le altre mie serie trovate anche i link ai canali dei miei amici youtuber che vi invito a seguire perché sono tutti bravissimi per cui ho detto questo e vi ringrazio tantissimo per essere stati con me in questo episodio noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti ciao a tutti